Ehi Sam, fallo secco! Invece riproviamo. Ok, aspetta, aspetta! Hai Nadine, bello rivederti. Ok, Mango! Mango! Che cazzo dici? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? I miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere dalla stessa parte. Aspetta, c'è ancora tempo? Fidarmi di un Drake? No, non ci casco più. Ok, dai, e perché non ne vado? Ok, è stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Sarebbe la scelta più saggia. Dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma... noi siamo in due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Sant'inubi. Ora! Sono stanca di questi! Sono stanca di tuo fratello! E sono stanca di te! Non provarci! Forza come il diavolo fa! Non possiamo parlarne!